Continua il nostro viaggio fra gli stand delle 70 aziende che partecipano a questa seconda edizione alla stazione marittima di Napoli di Hospitality Sud. Ho qui con me il proprietario dell'azienda Pacifico, ovvero Mario Maggio. Eccoci, benvenuto. Ciao, buonasera. Parliamo un po' di cosa offrite, spieghiamo i servizi, descriviamo. Allora, la Pacifico SRL è un'azienda operante nel settore da quasi 50 anni che si occupa di fornitura, di noleggio e lavaggio, di biancheria per hotel, strutture eccettive più in generale, insomma, dai. Quindi forniamo dal bed and breakfast sino all'hotel a 5 stelle e cerchiamo di abbracciare quella che è la clientela più variegata avendo incontro alle esigenze di tutti. Ecco, oggi abbiamo notato che il cliente è sempre più esigente, no? Anche sotto diversi punti di vista quando viaggia. Assolutamente. Il nostro lavoro ha sempre come riferimento quello che è la soddisfazione del cliente, quindi è assolutamente importantissimo e fondamentale per l'appunto attenersi a degli standard qualitativi elevatissimi e più in generale tendere sempre di più costantemente al miglioramento in termini qualitativi che corrisponde poi alla soddisfazione del cliente in termini finali. Ricordiamo anche il sito per saperne di più www.lavanderiapacifico.it. Avete sede a Salerno? La sede è a Ponte Cagnano in provincia di Salerno ma noi forniamo un gran numero di clienti in tutto il centro sud, quindi dal Lazio fino alla Calabria. Chi ha il piacere di venirci a trovare sa dove trovarci. Grazie, buon lavoro! Grazie a te, arrivederci!